Un commento al premio e che cosa valorizza del lavoro di un'arte? Il premio per Luxury & Fashion valorizza il lavoro di Luxottica, speso per valorizzare i propri brand, il valore degli stessi e far sì che il mercato possa apprezzare la qualità con la quale ogni giorno Luxottica si dedica per fornire al consumatore un prodotto eccezionale. Quali gli ingredienti che caratterizzano una direzione come la vostra? Sicuramente un team tecnicamente altamente specializzato, un grande lavoro di squadra, una coesione molto forte e una consapevolezza di essere una grandissima realtà. Perché è importante premiare gli NAO? Perché al pari degli external counsel rappresentano nella realtà odierna un panorama legislativo molto forte e corrispondono a soddisfare le esigenze dell'azienda in tempi molto rapidi, tempestivi ed efficienti. Un'ultima cosa, le chiedo se si sta divertendo, se una serata come questa rappresenta un'occasione di scambio, di know-how, di innovazione del mercato. Sicuramente sì, una serata come questa oltre ad essere molto divertente rappresenta un'ottima possibilità per fare networking, conoscere altri colleghi e confrontarsi in via informale sulle tematiche che ci occupano tutti i giorni. Ma cosa si dice tavoli? Si commentano i premi, si confrontano i team e si cercano spunti per fare meglio negli anni futuri. Quindi il lavoro anche a tavola va avanti per la competizione? Assolutamente sì, insieme al buon cibo e al buon vino. Grazie a tutti.